Vi è mai capitato che qualcuno decidesse per voi, che stabilisse cosa potete e cosa non potete fare? A me è successo. È successo quando un preside di un liceo non mi ha ritenuto abbastanza abile per frequentare la sua scuola. È successo quando all'università mi hanno detto «Perché stai studiando tanto? Non puoi fare questo tipo di lavoro?» È successo tante volte, ma sapete una cosa? Quelle parole mi hanno dato la forza e la determinazione per dire «Silvio, invece tu puoi». Tu puoi diplomarti, tu puoi laurearti, tu puoi fare qualsiasi cosa desideri se solo ci chiedi veramente. E così è stato. Vivo, quindi posso. Ci sarà sempre qualcuno lì pronto a diminuirvi, a dirvi che non sarete capaci a fare qualcosa. Non credetemi. Non fate diventare il limite e le insicurezze vi mettono gli altri i vostri limiti e le vostre insicurezze. Perché solo voi siete consapevoli di ciò che potete e di ciò che non potete fare. Voi e nessun altro.